Regà, anziché dire stronzate, perché non ci suggerite un bel video a me e a Sesbo? E ovviamente vi salutiamo, vi salutiamo a chi ce lo consiglia. E tu, lo sai che domani che è domenica non passano i treni? E' vero, non di cazzo, è meglio, rimango qua. Eh lo so, però non puoi perché io mi trasferisco. No, non è vero. Sembrano i battuti per me anche quando mai scherzi i telefoni. Scusa, io mi trasferisco, no, veramente sì, a papà gli hanno cambiato lavoro. No, no, Edo, non è vero in realtà, è uno scherzo da Pico, ho finito male.